Come una bestiolina. Io sono stato un trafficone della vita. Ho fatto il mercante, il politicante, il sensitivo che ha preso soldi dalle mamme per farle parlare con i figli defunti, il magnaccia, il mantenuto dalle vecchie. Insomma, sono stato ricco di eccessi. Ma adesso, a 80 anni, sto svanendo e mi rendo conto che ho vissuto come una bestiolina. Commento. Hai vissuto per come potevi vivere, al meglio di ciò che eri. Grazie al tuo vissuto, però, hai compreso che eri una bestiolina.